non so neanche bene come approcciare questo video ragazzi sono molto onesto perché dopo un'ora di gioco fatta in quel modo è palese che sia qualcosa che che non va indipendentemente da tutto perché comunque crei così tante situazioni da gol senza mai buttarla dentro può essere sfortuna fino a un centropunto perché prendi anche una traversa però evidentemente c'è qualcosa che non quadra nel senso che è un Venezia che costruisce quindi della qualità se no non costruiresti neanche così tanti palloni da gol perché Falcone quest'oggi si è dovuto impegnare un bel po' per evitare a Lecce di finire sotto in svantaggio soprattutto nel primo tempo poi però continuiamo ad assistere sistematicamente a delle scelte di 20 metri sbagliate o a delle conclusioni errate o vogliamo dire che poi Ampalo e Oristanio sono scarsi però io non sono propriamente di questo avviso anche perché secondo me Joel in carriera ha dimostrato che anche a questi livelli per buttarla dentro può buttarla dentro magari non è attaccante alla doppia cifra però non è neanche attaccante da veri del genere o il Venezia non regge questi ritmi e arrivano spompati negli ultimi metri non me la spiego altrimenti anche Oristanio tre occasioni in cui dribbrano tutto il mondo in una a poi Ampalo e Busio tutti liberissimi per un gol fatto bastava solo spingere per appoggiarla in rete e concludo con questo tiro abbastanza raffazionato sul primo palo arrivando forse un po' col fiato corto perché ripeto quando vedi un giocatore fare tutte quelle bellissime manovre e poi sulla cosa più banale perdersi in un bicchiere d'acqua a me qualcosa non quadra io sinceramente anche oggi non vedo particolarissime colpe del mister di Francesco perché oggettivamente Venezia che costruire ha costruito finché ha avuto fiato dipeso bene si è dipeso bene però è chiaro che giocando a questi ritmi non puoi abbassarli finché non sei perché altrimenti devi impostarla completamente in modo diverso la gara cioè dovresti abbassarti incominciare a lanciare lungo ma non era un Venezia che aveva nelle attreste l'idea di fare quello probabilmente doveva sbloccarla magari chiuderla e di palloni gol per sbloccarla e chiudere ne avuti tanti per poi acquietare un attimo i ritmi e gestire il ritorno degli avversari un Lecce che onestamente prima vittoria per il nuovo Lecce di Giampaolo però anche lì per fare l'1-0 approfitta di un momento di squagliamento totale del Venezia che aveva dato tutto e c'era la sensazione che prima o poi un errore sarebbe arrivato infatti si è fatto accogliere completamente impreparata sull'asse Gallo-Torgu in Venezia ora tanti vorrebbero un cambio di tecnico io sinceramente non sono del parere che un cambio di tecnico rivoluzionerebbe chissà cosa nel senso che non è stata amalgamata secondo me una squadra ad oggi per il gioco del mister perché oggettivamente se questi ragazzi si perdono sistematicamente negli ultimi metri io non so se riusciranno a imparare a gestire le azioni in un modo tale da essere ficcanti da qui al breve perché del breve si sta parlando adesso sei l'ultimo in classifica in solitaria e non so passando per esempio una difesa in contropiede quanto cambierebbe perché comunque anche quel concetto di gioco li devi allenare ed è un Venezia che non si sta concentrando particolarmente su quello quindi non so bene un tecnico subentrante cosa potrebbe andare a fare quindi non lo so io sono sinceramente abbastanza non turbato da questa partita però abbastanza confuso perché non vedo grosse via d'uscita se non continuare così ad oggi non credo che delle rivoluzioni cambierebbero chissà quanto l'unica strada che vedo è continuare a lavorare su questo spartito e almeno fino a gennaio quando si potrà comunque per quanto sia un mercato abbastanza bloccato fare delle riflessioni poi se qualcuna ha delle idee migliori lo scriva pure nei commenti però ad oggi hai fatto due vittorie che ci sono andate comunque se ci pensiamo bene dai episodi perché comunque con l'Udinese tre piazzati e con il Genoa comunque uno dei due gol arriva su una dormita di golline della difesa del Genoa abbastanza calamorosa poi vabbè c'è quel bel gol di Poyampalo servito da Yeboah però è un Venezia che con questo stile di gioco su manovra fa una fatica bestiale a segnare fa una fatica bestiale a segnare e anche su quelli che dovrebbero essere i suoi trascinatori non incidono perché purtroppo Poyampalo resta ancora fermo a zero nonostante dopo alle golle abbia avuto perché Oristanio non è riuscito a segnare e nelle paio di circostanze che poteva metterti l'assist ha preferito dei tiri decisamente forzati e perché comunque per dire anche oggi Busio tantissima corsa e però stringi stringi il pallone decisivo non l'ha messo purtroppo è un Venezia che è tornato al problema nella serie B con uno stile di gioco diverso ci sono dei giocatori che non riescono a fare lo step per incidere per spostare la partita per diventare gli eroi della giornata e quindi ti ritrovi a dover commentare una partita dove hai costruito quasi tutto tu e però poi i tre punti sono andati a Lecce e quindi non lo so ma adesso vediamo un po' cosa dirà di Francesco post-gara cosa diranno i giocatori se intervistati post-gara ma è chiaro che dispiace dispiace vedere la contestazione della curva a fine partita però è chiaro sei ultime in classifica speriamo poi magari il nervo salta i giocatori erano decisamente affranti a fine gara lo si vedeva in faccia ad Azzon ma perché comunque dopo che hai fatto una partita del genere è normale avere un contraccolpo temo dopo che hai sbagliato tutte quelle palle sbagliabili sinceramente non trovo che stavolta mi hanno inciso chissà quanto le scelte sui cambi nel senso che sono stati fatti quando il grosso del gruppo però aveva già finito il fiato e il problema lì è stato che non avevi tutte le palle col creato non è buttata dentro nessuna prima dopo è difficile non abbiamo granché purtroppo in panchina per cambiare qualcosa in corsa questo è un oggettivo cioè ragazzi Yeboah sarà 10 c'ha tutto anche oggi ingresso in campo per qualche sgasata qualche fiammata delle sue tanto fumo arrosto quasi zero e niente adesso avremo due gare toste molto toste in trasferta contro Napoli Juventus altri tre sconti diretti in casa dobbiamo cercare di tenere duro fino alla fine dicembre e poi vedere a gennaio cosa si può fare perché sicuramente qualcosa Antonelli dovrà farlo per ora un mercato dove di tutti gli innesti fatti pochi stanno incidendo realmente sappiamo che è stata fatta una scelta ben precisa mantenere il gruppo dell'anno scorso tanti giovani tanto patrimonio tecnico fatto però per ora purtroppo ad oggi non sono ficcanti dico ok Caviglia Oristanio è un Duncan che oggi si mi è piaciucchiato ma me deve fare di più anche lui e per tutti gli altri poco poco Yeboah poco Sagrado poco scelte è nulla Dunbiar giovanissimo ancora troppo acerbo e che Di Francesco ha messo in parte Franco Carboni non è pronto tante cose che continuano a non convincermi e Di Francesco ha il suo stile quello è quello fai sai chi prendi lui te lo porta avanti e poi chiaro dovresti anche tu dargli il materiale giusto per far sì che questo gioco sia efficace ad oggi non lo è purtroppo oggi è una dimostrazione che ad oggi non lo è perché se col Parma poteva essere un caso oggi ne hai avuto la riconferma e hai creato anche molto di più rispetto alla gara con il Parma dove l'avevi sbloccata tra l'altro oggi hai creato molto di più segnando 0 perché dopo il 65esimo poi sistematicamente finisci il fiato perché questo è il gioco del mister e se non hai segnato dei gol rischi e oggi l'hai prese poco da fare ragazzi vi lascio così purtroppo oggi è andato così anche il video vi ringrazio per l'attenzione se va iscrizione un like per aiutarci vi lascio l'attenzione ai commenti un saluto e ci vediamo sui prossimi contenuti del fuoricampo ciao ciao